Bella raga dal vostro Zedcastle, bentornati alle video recensioni del Trono del Re qui su Lega Nerd iscrivetevi al canale e attivate la recensione delle notifiche con la campanella così da non perdervi mai neanche un contenuto il fumetto di cui vi parlo oggi è la via della spada di Mattio Mariol e Federico Ferniani edito da Magic Press, BOOM! Allora, la via della spada di Mattio Mariol e Federico Ferniani ci viene proposto adesso in versione integrale da Magic Press ed è una novità fresca del mese torniamo quindi a parlare di Giappone feudale, di samurai, epici combattimenti, eccetera come siamo abituati un po' da sempre nel mondo dei manga anche se stavolta il punto di vista è un po' diverso, un po' inusuale, forse anche un po' originale il fumetto infatti è la trasposizione del romanzo di Thomas Day, romanzo omonimo che mi pare, ho controllato, è ancora inedito in Italia in effetti l'approccio al mondo dei samurai in questo caso è caratterizzato da un fantasy di stampo un po' occidentale europeo e la cosa si nota in diversi punti che adesso andrò a raccontarvi allora, il grande signore della guerra, Ito Nakamura, è all'apice del suo potere e i suoi figli, più o meno legittimi, vivono nel castello di famiglia in attesa che il padre decida quale destino servare per loro fino all'arrivo di una figura leggendaria un samurai realmente esistito, un ronin, il più grande spadaccino di tutti i tempi Miyamoto Musashi, tra l'altro realmente esistito tra la fine del Cinquecento e la metà del Seicento autore del Gorin no Show, libro dei Cinque Annelli che vi vengo a spiegare a voi chi è Miyamoto Musashi il ronin, tutto sporco e affamato dopo aver dato prova della sua incredibile abilità e maestria con la spada viene accolto dal daimyo e lo stesso Musashi si offre di prendere in custodia Mikedi il giovane figlio del signore della guerra al fine di renderlo un uomo e un guerriero formidabile quindi degno di prendere in sposa l'imperatrice figlia quanto ci vorrà? 10-20 anni è così l'ambizioso Nakamura Ito decide di affidare il figlio Mikedi al leggendario santo con la spada per un viaggio di formazione che si rivelerà unico nel suo genere infatti la figura di Miyamoto Musashi sarà un po' diversa da quella reale storica da quella raccontata ad esempio in opere come Vagabond di Takeiko Inoue diciamo che ci viene presentato un maestro un po' particolare infatti il giovane Mikedi odierà fin da subito Miyamoto Musashi per via dei suoi modi duri, criptici però i sentimenti saranno un po' contrastanti da una parte c'è sicuramente dell'odio dall'altra parte c'è anche dell'ammirazione per queste sue incredibili capacità che sembra un uomo che ha trasceso i limiti umani Mikedi verrà quindi portato in addestramento in giro per questo Giappone molto fantasy ricco di leggende, fascino, luoghi incredibili e creature sia umane che animali dei poteri unici si troverà in un arcipelago artificiale quindi alcune isole abitate da un gruppo di pirati che tra l'altro sono in lotta con il padre dove imparerà il valore della saggezza in battaglia e del non schierarsi conoscerà il valore del lavoro nella capitale culinaria del paese partendo da Sguattero per poi diventare Cuoco un abile Cuoco e alla fine nella pagoda del piacere addirittura scoprirà quelli che sono tutti i segreti dell'uomo i piaceri della carne arrivando anche ad ottenere importanti risposte in questa sorta di struttura a piani dove più alto si va e più è importante il segreto che sarà rivelato di fatto tutto questo contribuirà a creare quella che è la personalità di Mikedi a renderlo un uomo a renderlo maturo ma scopriremo anche attraverso racconti e flashback più o meno onirici quasi dei sogni delle favole il passato di Miyamoto Musashi e il motivo del suo distacco dal mondo e dei suoi modi così duri pur non essendo un trattato di filosofia del Budo e del Bushido la barra di Mariol e Ferniani cerca di fondere quel misticismo tipico giapponese e il pensiero orientale con una forma di fruizione un po' più occidentale mettiamola così rendendo il tutto qualche mariera scorrevole molto scorrevole e piacevole tra l'altro sapete anche voi insomma chi ha letto Lagakura il Gorino Show si è reso conto fin da subito che sono titoli piuttosto difficili da capire per essere compresi da noi occidentali comunque se l'opera in qualche maniera traspone in maniera fedele il romanzo di Thomas Day a detta tra l'altro stessa dell'autore la parte dei disegni del nostro Federico Ferniani veramente è superlativa personaggi splendidamente ritratti luoghi incantati di grande maestosità scene di combattimento cruente epiche e momenti di passione intensi i colori di Jean Paul Fernandez e del nostro Luca Saponti valorizzano alla grande le matite con delle palette ricchissime degne delle migliori opere fantasy dal punto di vista visivo quindi ci troviamo di fronte ad un vero e proprio gioiellino la via della spada è un racconto di crescita e di formazione tipicamente europeo per ritmo per composizione ma con tutto il sapore esotico dato dall'ambientazione e dai personaggi alcuni realmente esistiti e tra l'altro inseriti in questo contesto da fiaba adulta e intensa diventa veramente anche molto emozionante i tre volumi che componevano il fumetto edito originalmente in Francia da Glenna erano stati pubblicati qui in Italia da Mondadori Comics in versione separata ma adesso è arrivata Magic Press che ci offre questo brussurato bello generoso di 200 pagine al prezzo di 20 euro un fumetto che ha tutto quello che serve per incantarvi con uno storytelling importante eccezionali disegni sicuramente e colori ottimi dialoghi e soprattutto una filosofia di base alla portata di tutti evocativa e profonda ma senza quell'ermetismo quella difficoltà di comprensione che a volte talvolta capita con alcune opere orientali per quanto mi riguarda assolutamente da avere senza ombre di dubbio la via della spada l'integrale Mariol Ferniani by Magic Press approvato dal trono del re ciao